ABG Arceri, una società nata recentemente nel 2017 con una mission precisa, fare attività nelle scuole e poi naturalmente anche sostenere ragazzi e ragazze con disabilità facendo scoprire quella che è la meravigliosa disciplina del tiro con l'arco. Sì, la società è nata con questo scopo, l'aspetto principale è proprio la divulgazione del tiro con l'arco nelle scuole per far conoscere quelli che sono i valori di questa disciplina e quello che questa disciplina può portare loro. E' chiaro che è una forma di investimento a lungo termine perché i ragazzi sono resti a cambiare certi comportamenti però piano piano vedo che rispondono a questo tipo di chiamata perché appunto è una disciplina che li coinvolge tantissimo, li aiuta tantissimo e soprattutto crea una forma così di amicizia a lungo termine anche fra loro. Quali sono le sedi in cui operate? Allora le sedi in cui operiamo sono palestra, abbiamo una palestra a Pallacep nel Ponente, poi una palestra che stiamo cercando di avviare nei locali del Brignole e un campo dove c'erano le vecchie serre del comune da Corso Firenze e poi abbiamo tante sedi scolastiche dove appunto facciamo tantissime attività. Abbiamo, diciamo, optato per questo aspetto, non avere un'unica sede perché è difficile portare dei ragazzi da Levante, da Ponente, visto anche geograficamente Genova è molto lunga e non è facile far venire uno da Nervi in centro. Allora andiamo noi. A proposito del 5 maggio c'è un importante evento da evidenziare? Il 5 maggio ci sarà l'inaugurazione di una struttura sportiva a San Desiderio promossa dalla Family Sport dove ci saremo anche noi e all'interno di questa struttura si potranno fare diverse attività oltre al tiro con l'arco, la rampicata, mountain bike, calcio e poi il percorso sugli alberi. Sottolinevamo prima il valore dell'attività con i disabili, qualcosa che vi vedrà anche protagonisti poi alla festa dello sport in occasione della giornata paralimpica. Sì, abbiamo già divulgato la notizia di questa giornata presso le scuole dove operiamo e sperando che ci sia tanta affluenza perché ci sono tanti ragazzini disabili che fanno già attività e che senza altro hanno già dato l'adesione a partecipare a quella giornata. Tra l'altro l'attività per gli studenti è importante e la ribadite anche quest'anno in occasione dei giochi studenteschi che organizzerete proprio al CEP. Sì, ci sarà la fase provinciale dei campionati studenteschi che la faremo al Palacep il 14 di maggio dove tutte le scuole della provincia di Genova, quelle che hanno aderito a questa disciplina, parteciperanno con due squadre, una maschile e una femminile, composta da tre elementi. E poi a giugno il Trofeo Coni? A giugno il Trofeo Coni, questo è regionale e ogni società parteciperà con due squadre composta da due ragazzi e due ragazze per poi alla fine parteciperanno alla fase nazionale che si terrà in Emilia a settembre. A novembre invece un altro grande appuntamento? Sì, a novembre, i primi di novembre, il primo indoor della nostra società che si terrà al Palacep a Pra, nella tensostruttura a Pianacci. Conoscere le attività da vicino per magari venire a provarle, come si può fare? Allora, noi adesso lavoriamo all'aperto perché c'è la preparazione per le gare all'aperto e noi siamo al campo che si trova in Corso Firenze di fronte al Civico 43 dalle sere di San Nicola, al martedì dalle 17 alle 19 e al sabato dalle 10 alle 12.